La nostra idea non era raccontare esattamente cos'è successo, ma è più un racconto di come l'immaginario della città ha trasmesso questi eventi. Quindi non vedrete scritte, non vedrete dati, sentirete solo storie e vedrete immagini che fluttuano. La nostra idea era anche restituire la frammentazione della memoria e vedrete molti effetti speciali che in una delle cose che ci caratterizza in realtà sono effetti speciali tutti fatti in modo molto molto artigianale. Quindi l'idea è proprio quella di restituire un racconto di come la città ha ricordato nel tempo questi eventi e di come anche nel tempo questi eventi siano frammentati in mille storie e in mille rigoli.